segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'è una parola sbagliatissima che ha usato daniela santan che è la parola cambiare noi vogliamo cambiare loro non vogliono cambiare un bel niente loro sono una proposta politica conservatrice che sostanzialmente vorrebbe far all'italia tantissimi passi indietro è come quando si guida andando in avanti e accanto c'è qualcuno seduto che continuamente tira il freno a mano per fermare l'avanzamento ecco loro sono quelli che da sempre tirano il freno a mano non avrebbero fatto le unioni civili non avrebbero fatto la legge sull'aborto non avrebbero fatto tutti quei passi avanti che l'italia ha fatto verso la civiltà tra poco ascolteremo giorgia meloni tra poco ascolteremo giorgia meloni sia sul tema dell'aborto sia sul resto ma vale per tantissimi temi perché ogni volta che le donne di sinistra hanno fatto delle battaglie penso ai congetti di maternità penso alla possibilità di coniugare vita e lavoro penso alle leggi sulla salute femminile che sono state fatte i servizi territoriali come consultori ogni volta che le donne di sinistra hanno fatto delle battaglie ce n'erano delle altre che tiravano il freno a mano e erano le donne di destra e allora io penso e noi pensiamo noi di alleanza verde e sinistra ma dove tiravano il freno a mano a santanché sconsolata in parlamento non c'è stata nessuna riforma di avanzamento che nei decenni e non sto parlando solo degli ultimi cinque anni è la storia del paese nessuna di quelle riforme ha ricevuto il voto favorevole delle forze che oggi si candidano a così